ciao a tutti qui condivido con voi questo video molto veloce della realizzazione di un dipinto digitale che ho fatto così per riscaldarmi un po la mano dopo essere tornato dalle vacanze ho cominciato con un disegno a matita molto semplice con solo le linee principali sotto come vedete ho messo delle foto di riferimento che sono le foto che che ho fatto in ferie e adesso stavo cercando di dare i colori base solo che mi sono accorto di averli dati tutti su uno stesso livello e adesso ho spostato il lavoro fatto giusto per non buttarlo via e ho ricominciato a fare i colori base su dei livelli separati in maniera tale che poi potessi fare quello che sto facendo anche lì adesso una selezione molto più facilmente per per mantenere i contorni del singolo livello i colori li pesco dalla fotografia perché in questo caso mi interessava sforzarmi di usare dei pennelli che non uso di solito piuttosto che fare uno studio sui colori quindi sotto ci sono delle fotografie le ho pixelate sfumate in maniera tale che quando pesco il colore possa pescarlo da quello che è più simile a una tavolozza che non un singolo pixel in una foto che può avere dei colori molto casuali e adesso sto procedendo con i colori base e procedo sempre da dietro ad avanti cioè dalle cose più lontane a quelle più vicine in maniera tale che quando disegno una cosa più vicina questa possa andare facilmente a coprire quello che ho già fatto i colori che sto dando in questa fase sono i colori che io chiamo base cioè quelli che un oggetto avrebbe diciamo in una giornata luminosa ma nuvolosa in pratica i colori di un oggetto senza le ombre e anche senza colpi di luce sto sforzandomi di usare dei pennelli che non che non ho mai usato anche così per divertimento per studio e quello che cerco di fare sempre è mediare la giusta dose di bordi netti e bordi sfumati e quindi in alcuni casi come questo qua della neve o il bordo della roccia addirittura non ho neanche usato un pennello ma ho proprio fatto una selezione per cercare di avere un bordo il più netto possibile ora ho cominciato a colorare le ombre per le ombre ho creato un livello in modalità moltiplica e ho scelto un colore azzurro perché in genere diciamo per farla semplice le ombre hanno il colore del cielo quindi in una giornata come quella che viene dipinta qui con un bel cielo azzurro le ombre avranno una buona componente di azzurro e procedo anche qui con delle grosse pennellate con un pennello grezzo che lasci i bordi non sfumati ma manetti anche se in questo caso con una specie di effetto tela poi procedo a sfumare in alcune zone non dappertutto ovviamente le ombre e successivamente in una seconda fase aggiungo ulteriori dettagli alle ombre in questo caso quello che mi interessava fare era cercare il contrasto tra gli elementi orizzontali delle ombre degli alberi e gli elementi verticali del dell'andamento effettivo degli alberi quindi in genere appunto con le ombre io procedo in questo modo prima con delle grosse zone molto nette e dopo con degli ulteriori dettagli queste sono le luci che faccio su livello in modalità screen e in questo caso sono delle luci calde quindi ho scelto un colore aranciato e sto dando le luci è importante soprattutto con le luci cercare di non darle uniformi su tutto il dipinto altrimenti viene tutto uguale quindi bisogna cercare delle zone in cui ha senso aggiungere delle luci e delle altre invece da lasciare quasi coi colori di base al di là dell'aggiunta dei dettagli insomma che magari nei colori di base non si è ammesso e ora appunto su un ulteriore livello che illumini ancora di più la scena sto dando dei punti di luce e anche qui è importante cercare di farlo solo in alcune zone determinate questo deve aggiungere interesse però se si esagera e si spalma questo effetto dappertutto invece che interesse si ottiene noia e un aspetto piatto anche le ombre hanno bisogno di essere approfondite e quindi ecco che sempre sullo stesso livello delle ombre ma con un colore più scuro ho aggiunto degli elementi ancora più scuri ora che tutti i colori sono sulla tavolozza si può procedere anche con dei livelli in modalità normal nel quale pescando colori già esistenti si va ad aggiungere alcuni dettagli ovviamente questo è un dipinto state vedendo un video 13 volte più veloce questo dipinto mi ha preso circa un'ora e mezza un'ora e mezza è abbastanza diciamo ma è pochissimo per poter fare un quadro dettagliato per cui non si può pretendere siamo sempre nel campo di quello che si chiama speed painting cioè una pittura rapida bisogna cercare di dar l'idea e i dettagli vanno aggiunti solo nelle zone dove l'occhio cade o dove lo dove si vuole che l'occhio cada insomma perché ovviamente una scena del genere per poter essere davvero dipinta con cura chiede ben più di un'ora e mezza la parte finale sono delle luci e delle ombre molto ampie su alcune zone dell'immagine che creino quindi dei piani di lettura che rendano l'immagine più interessante e meno piatta questa è proprio l'ultimissima fase spero che aver condiviso questo metodo di lavoro sia stato utile per alcuni di voi grazie mille al prossimo video